Come aggiungere prodotti nelle vicinanze con l'app Augie 10Q. Utilizza, cerca nelle vicinanze, per iniziare a scoprire i tuoi prodotti LG e collegarli per utilizzarli con la tua app Augie 10Q. Per prima cosa, aprite l'app. Sulla schermata Home, selezionate Aggiungi un dispositivo. Toccate Seleziona il dispositivo. Quando appare la richiesta delle impostazioni Wi-Fi, selezionate la rete che volete connettere al dispositivo. Scegliete Selezionare il dispositivo e attivate il servizio di localizzazione del telefono. Seguite le istruzioni dell'app per accendere il dispositivo e toccate OK. Una volta terminato, il dispositivo sarà pronto. Se toccate su Cerca nelle vicinanze, l'app cercherà i dispositivi nelle vicinanze. Selezionate il dispositivo per connettere l'app. Seleziona il dispositivo e scegliete la rete che vuoi connettere. Inserite la password e poi toccate su Connettere. Controllate le istruzioni sulla schermata dell'app. Toccate e tenete premuto il pulsante Wi-Fi del dispositivo per più di 3 secondi, per completare l'associazione. Una volta aggiunto, si può vedere la scheda del dispositivo. Toccando su Vai a casa, la scheda del dispositivo apparirà sulla schermata 1. Il dispositivo sarà aggiunto con successo. Osto mais la schermata è disponibile. La scheda del dispositivo dell'app. Il dispositivo avvust Torre. Il dispositivo sarà aggiunto con successo. Quindi il dispositivo avvustos, si può vedere la scheda del dispositivo. Grazie a tutti